Musica Fare rete attraverso un sistema di videosorveglianza capillare nel territorio a retino che coniughi pubblico e privato. Si tratta di un progetto innovativo, il primo a livello nazionale, che mira a coprire gran parte del territorio comunale grazie alla partecipazione dei privati cittadini e delle aziende che potranno con costi calmerati installare sistemi di videosorveglianza in aria ad oggi non coperte e potranno essere poi collegate alle centrali delle forze dell'ordine. Il sistema che ci eravamo prefissati già in campagna elettorale, il percorso è stato lungo e tormentato perché non esistevano casi a livello nazionale uguali a quelli o simili rispetto a quello che abbiamo messo in piedi noi e quindi siamo arrivati alla fine di un percorso, di questo lungo percorso, ad emettere un bando per individuare dei soggetti che ci manifesteranno interesse nel comporre insieme a noi il bando, o meglio nel implementare quelle linee guida che decideremo di mettere a bando. Successivamente verrà fatto un nuovo bando per individuare il soggetto, gestionare il concessionario del sistema e quindi colui che andrà materialmente ad installare le telecamere a fornire il servizio alle forze dell'ordine che saranno allacciate al sistema complessivo sia quello comunale sia questo misto pubblico privato. Abbiamo fatto in questo anno un grande lavoro con l'ufficio IT per cercare di uniformare e rimettere a regime quello che è l'attuale canale di sicurezza del comune che però come sapete bene sfrutta in particolare in città le fibre ottiche, quindi è un canale che finalmente ora funziona bene e viene visto anche dalle altre forze dell'ordine ma che difficilmente si può espandere a macchia d'olio proprio perché tecnicamente ha dei costi enormi. Quindi questo sistema affiancherà quello comunale che comunque noi continueremo ad investire proprio per cercare di arrivare in tutti quei posti che oggi sarebbe difficilissimo arrivare con gli impianti comunali in modo da fornire alle forze dell'ordine una mappatura quasi completa della città, almeno quello che noi speriamo, in modo che i condomini, ville, appartate, frazioni, periferie possano in qualche modo avere un sistema che fa da un lato da deterrente ma soprattutto che semplifica tantissimo poi le indagini in caso di reato alle forze dell'ordine.